Ho cercato di mettere più materiale possibile a disposizione che avremmo in magazzino, magari vecchio e nuovo materiale che avevamo a disposizione. Qui è solo una parte disponibile, anche perché se dovevamo portare tutto non sapevamo dove metterlo. Ma quello è basta il segnale. Basta il segnale vuol dire che ci siete e quello mi lusinga personalmente. Io ho il semplice grazie a nome di tutti coloro che magari prenderanno questo materiale, lo dico io, perché nella loro lingua loro non lo direbbero, però è gli occhi che parlano. Magari tu non li puoi vedere e magari li manderemo la foto e tu li vedrai gioiosi. E sarà un onore. No, un onore nostro. Sarebbe veramente contenti per te. Grazie di cuore. E noi lasciamo il nostro libro che magari... C'è scritto una cosa che io ti ho detto, manca fuori apposto prima. C'è scritto la vittoria e l'onore su un guido, ma non perché facciamo un guido. Che uno può essere guida pure nella vita. Grazie di cuore. Grazie. Lo dico bene a tutti. Grazie.